Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un argomento serio che è sulle pagine di tutti i giornali, ma non se ne parla mai abbastanza. Una malattia che colpisce soprattutto le donne, vittime fragili della nostra società. Abbiamo deciso di dar voce a una vittima di questa malattia, una donna coraggiosa che ha scelto di raccontarci la sua esperienza. Via col collegamento. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Me le sono accorta tardi, ero così presa dalla vita, dalle scadenze, dalle serie di Netflix da guardare che non ho dato peso ai primi sintomi e adesso, adesso, usate. È difficile, lo sappiamo, questa malattia colpisce soprattutto le donne pigre, quelle che non si curano abbastanza. Quando finalmente mi sono resa conto che avrei dovuto fare qualcosa, le ho provate tutte, creme, tutte. Ho acceso un mutuo per fare uno di quei trattamenti miracolosi. Mi sono avvolta nelle garze, mi sono spalmata unguenti, ma niente, lei è sempre lì sta maledetta e alla fine io sembro una mummia, una mummia con la cellulite. La scenetta un po' scema a cui avete assistito rende bene l'idea della rappresentazione della cellulite nelle pubblicità dei prodotti che dovrebbero in qualche modo contrastarla. Fateci caso, si parla sempre di emergenza, di corsa contro il tempo, di trascurrezza, di pigrizia e di fronte a questi problemi la soluzione semplice arriva sempre nella forma di un prodotto, una crema, un unguento oppure un trattamento. Ma che cos'è davvero la cellulite e soprattutto è possibile eliminarla? Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino e in questi video parliamo di cosmetici, ma visti con gli occhi della scienza. Le prime descrizioni della cellulite risalgono a metà dell'Ottocento, non che prima non ce l'avessero e ce l'avevano anche loro, semplicemente non le avevano dato un nome e una delle prime regole del marketing è che se tu non dai un nome a qualcosa, quel qualcosa non esiste. Prima di averne una definizione scientifica accurata dobbiamo arrivare alla fine degli anni 70 del secolo scorso, quando due medici tedeschi hanno analizzato i tessuti adiposi di 150 cadaveri e 30 persone vive, divisi tra uomini e donne, tra persone che avevano la cellulite e persone che non ce l'avevano. I due ricercatori sono arrivati a delle conclusioni, la prima e più importante è quella che scrivono nel titolo, la cellulite è una malattia inventata. Cioè anche se spesso ce la presentano come una malattia, non lo è. I due medici tedeschi la definiscono come una caratteristica fisiologica, cioè normale, di alcuni tessuti adiposi. Il classico aspetto a buccia d'arancia deriverebbe da due fattori principali, il primo è il volume maggiore delle cellule adipose delle persone che hanno la cellulite rispetto a quelle che non ce l'hanno. Il secondo è la differenza nell'architettura dei tessuti sottocutanei, cioè sotto la pelle, in pratica l'impalcatura di collagene che tiene su quello che viene chiamato pannicolo adiposo. Immaginatevelo come un materasso con la lana, le cellule di grasso equamente distribuite in tutta la superficie. Chi non ha la cellulite ha le fibre di collagene messe intrecciate a rete. Chi ha la cellulite invece ha le fibre di collagene perpendicolari, ancorate alle due superfici superiore e inferiore, esattamente come le molle di un materasso. Se aumentiamo la quantità di lana, cioè di grasso, nel materasso fatto a rete, otteniamo un rigonfiamento omogeneo. Se invece aumentiamo in quello con le molle, otteniamo le classiche gobbette. Ok, abbiamo parlato di persone che hanno la cellulite e di persone che non ce l'hanno, ma chi sono? Allora, gli uomini tendenzialmente non ce l'hanno, tranne una piccola percentuale che mi sento di voler abbracciare con affetto. Nel caso delle donne invece la faccenda è completamente diversa e per certi versi è anche edificante. Perché? Perché viene fuori che la cellulite ce l'abbiamo tutte, magre, grasse, belle, brutte, tutte tranne una, un'unica maledetta su dieci che non ce l'ha. Anche se non sappiamo bene perché. Già, perché noi della cellulite ne sappiamo davvero poco, anche se poi a volte vediamo in televisione dei medici che attribuiscono con sicurezza le cause della cellulite al microcircolo, alla ritenzione idrica. Una volta pensate, ne ho sentito uno che l'ha definita l'Alzheimer della pelle, rendiamoci conto. Una delle difficoltà è che trattandosi di una malattia inventata ci sono pochi gruppi di ricerca che decidono di studiarla. D'altra parte i soldi pubblici non sono infiniti e il grosso della comunità scientifica pensa che non valga la pena concentrarsi su quella che è una caratteristica normale dei tessuti adiposi. Il risultato però è che i dati che abbiamo a disposizione sono molto frammentari e sono influenzati dalle ricerche, quelle sì che ci sono, finanziate dalle case produttrici di cosmetici anticellulite. Però qualcosa sappiamo. Sappiamo per esempio che c'entra la genetica, il nostro DNA, anche la genetica di popolazioni, le donne africane e asiatiche hanno meno cellulite delle donne occidentali. Anche in questo caso non si sa ancora perché. Sappiamo poi che la cellulite non è legata all'essere più o meno grasse, più o meno magre. Se si confrontano donne con un indice di massa corporea basso, cioè magre, e donne con un indice alto, cioè grasse, viene fuori che la cellulite non fa prigionieri e colpisce in maniera confrontabile le donne in entrambi i gruppi, dimostrando che non è una questione di magrezza o di grassezza e non è dimagrendo che si elimina il problema, anche se variazioni nell'aspetto della cellulite legate alle variazioni di peso si possono osservare. Tutte le altre ipotesi che vanno dall'infiammazione dei tessuti all'influenza del microcircolo alla ritenzione idrica sono per l'appunto solo ipotesi. Non sono mai state dimostrate in maniera convincente anche se in certi ambienti sono date per assodate. Ma veniamo ai rimedi. Qualche mese fa l'American Academy of Dermatology ha cercato di fare un po' il punto di tutto quello che si sa sull'efficacia dei vari rimedi messi in atto per contrastare la cellulite. Egli ha raggruppati e messi in scala da quelli che sembrano avere una qualche efficacia a quelli che proprio non ce l'hanno. Partiamo da qui, cioè da quelli che sicuramente non fanno niente. Allora di sicuro non c'entrano le tossine e la cellulite non si elimina con un beverone detox, con buona pace di quelli che cercano di venderceli. Questa delle tossine nel nostro organismo responsabile di qualsiasi cosa, dalla cellulite alle rughe ed eliminabili semplicemente bevendo un tè, è la più grande truffa dei nostri tempi. Non se la passano bene neanche gli integratori che siano a base di caffeina, a base di ginkgo biloba, a base di estratto di pungitopo non hanno dimostrato di avere efficacia. Anche in questo caso si tratta di soldi e speranze buttati. Lo sport, questa è una cellula muscolare. Fare attività sportiva non va a modificare la struttura dell'impalcatura che tiene su il pannicolo adiposo, cioè non elimina la cellulite, però aumentando la tonicità dei tessuti potrebbe migliorarne l'aspetto. Ma la cellulite, se c'è, rimane anche nelle persone sportive. Quando si va su creme e trattamenti la situazione si complica, perché nella produzione scientifica troviamo studi che sembrano dimostrare l'efficacia di qualcosa e studi che invece smentiscono quei risultati. Come se ne esce? In due modi. Il primo è facendo un esperimento fatto come si deve. Il secondo è utilizzando degli strumenti chiamati metanalisi che permettono di confrontare risultati provenienti da studi diversi, di soppesarli e di tirar fuori una conclusione, se c'è. Ormai 30 anni fa, nel 1987, è stato pubblicato uno studio nel quale sembrava che un unguento a base di caffeina, estratto di edera e pungitopo provocasse una riduzione nella cellulite. Come era stato fatto questo esperimento? I ricercatori avevano chiesto a 27 donne di spalmarsi questo unguento sulle cosce ogni giorno per un mese. Alla fine dell'esperimento i ricercatori hanno misurato una riduzione dello spessore del grasso sottocutaneo, oltre a un miglioramento dell'aspetto della pelle. Ma benissimo! Quindi funziona! Calmi, calmi. Un esperimento del genere non ci permette di dire che quell'unguento funziona davvero. Perché? Per esempio, come facciamo a sapere se la riduzione dello spessore del grasso è dovuta alla caffeina, al pungitopo o all'edera, oppure semplicemente al massaggio? L'unico modo è quello di affiancare al gruppo di donne che prova l'unguento un gruppo di donne che prova un unguento placebo, cioè che non contiene quegli ingredienti che dovrebbero avere una funzione. Oppure, visto che ogni donna ha due gambe, mediamente, chiedere alle donne di utilizzare su una gamba, mettiamo la destra, l'unguento da testare e sulla gamba, la sinistra, l'unguento placebo. Alla fine dell'esperimento si misureranno le differenze tra il trattato e il placebo e solo in quel modo potremmo sapere se la differenza è dovuta agli ingredienti, cioè se l'unguento funziona. Ma non basta ancora. Pensate a come reagireste se foste voi le cavie di questo esperimento. Vi venissero dati due flaconi, uno con su scritto unguento con caffeina, pungitopo e edera e l'altro con su scritto placebo. È probabile che dedicherete molta più cura nello spalmare l'unguento contenente gli ingredienti che dovrebbero avere un effetto rispetto al placebo. Tanto non funziona, no? Per questo motivo in un esperimento fatto come si deve si applica il protocollo cieco, cioè il protagonista dell'esperimento riceve un prodotto e non gli viene detto se è il prodotto contenente il principio attivo oppure il placebo. Le donne nel nostro esperimento avrebbero dovuto ricevere due flaconi identici con su scritto A e B per esempio e le avrebbero dovute spalmare senza sapere quale delle due creme fosse effettivamente l'unguento da testare. È sufficiente? Non ancora. Supponiamo a questo punto di essere gli scienziati che si trovano a dover testare un prodotto che magari hanno messo a punto investendoci molti anni di lavoro. Questo in gergo si chiama effetto sperimentatore. I nostri scienziati si aspettano e in qualche modo sperano che l'unguento funzioni. Quindi saranno portati a sovrastimare i risultati nelle cosce trattate con l'unguento e a sottostimare i risultati nelle cosce trattate con il placebo. L'unico modo per evitarlo è quello di bendare anche i ricercatori facendo così un protocollo doppio cieco. In cieco perché il campione non è a conoscenza di quale dei due flaconi contiene il lunguento è doppio cieco perché anche gli sperimentatori non sanno qual è la gamba che ha l'unguento rispetto a quella che ha il placebo. A questo punto se abbiamo un campione sufficientemente grande, un campione di controllo, un protocollo doppio cieco possiamo essere ragionevolmente sicuri di star facendo le cose per bene. Un esperimento simile è stato fatto nel 1991 utilizzando lo stesso unguento che aveva dato dei risultati positivi nel 1987. I ricercatori scrivono nelle conclusioni che alla fine dell'esperimento non siamo stati in grado di osservare nessuna modificazione significativa sia nel colore della pelle sia nel flusso sanguigno e nemmeno in parametri come lo spessore o il perimetro delle cosce. In pratica non c'è nessuna differenza tra la gamba che ha utilizzato l'unguento e la gamba che ha utilizzato il placebo. Di esperimenti come questo ce ne sono un po' non tantissimi come dicevamo prima però qualcuno c'è. Nel 2013 un gruppo di ricerca dell'università di Pavia li ha messi tutti assieme con quello strumento delle metanalisi di cui abbiamo parlato poco fa. Da questo studio emergono dei dati interessanti. Intanto scopriamo che la maggior parte degli studi pubblicati sulla cellulite rivela delle grosse carenze di tipo metodologico cioè sono fatti male. Il secondo punto importante è che alcune azioni possono avere degli effetti sulla cellulite ma temporanei. Il massaggio per esempio è fra queste. Massaggiare la zona con la cellulite porta a smuovere quella struttura di cui abbiamo parlato e quindi porta a un miglioramento dell'aspetto. Però con quale crema si massaggi cambia poco. Confrontando tutti gli studi fatti si vede che nessun unguento, nessuna crema, nessun principio attivo particolare è in grado di andare a modificare in maniera permanente l'aspetto della cellulite. E anche sulla riduzione della circonferenza delle cosce dobbiamo ridimensionare un po' le aspettative perché quando va bene si parla di una riduzione di 0,5 cm su tutto il perimetro. Per carità qualcosa è però somma. Qualche tempo dopo hanno fatto lo stesso lavoro di metanalisi non più sulle creme ma su tutti i trattamenti da centro estetico scoprendo che anche se sul mercato se ne trovano tantissimi nessuno può dirsi realmente efficace. Anche in questo caso i pochi effetti che si riescono a vedere sono temporanei ed estetici. D'altronde la legge parla chiaro. Per il regolamento europeo 1223 del 2009 un cosmetico può solo pulire, profumare, modificare l'aspetto, proteggere, mantenere in buono stato e correggere gli odori corporei. In poche parole come riassume bene il garante per la pubblicità il cosmetico non è un farmaco e non può avvantare attività terapeutica capace di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause degli inestetismi. In pratica una crema anticellulite se eliminasse davvero la cellulite non potrebbe essere un cosmetico. Che per carità può anche andare bene così ci si può dare come obiettivo di migliorare temporaneamente l'aspetto della pelle delle proprie cosce in vista di un evento, una vacanza, un qualsiasi cosa. L'importante è avere la consapevolezza che prima o poi la situazione tornerà al suo stato originale perché purtroppo la cellulite è un po' come i diamanti, è per sempre. Per oggi la chiudo qui, se vi è piaciuto il video condividetelo e iscrivetevi al canale e se avete domande e commenti scrivetemeli qua sotto io cercherò di rispondervi. Alla prossima!